Filippo, una delle tue caratteristiche migliori di persone era quella di riuscire a osservare, vedere gli altri, capire quando qualcosa non andava, magari c'era qualcosa che lasciava un attimo lì spiazzati e anche quella di riuscire a dire con fermezza e anche con una certa dose di vicinanza, di tenerezza, le cose veramente come erano, andare proprio al centro delle cose, mettere a fuoco le cose e questo anche adesso lo stai facendo, lo stai facendo perché quando la vita mi sembra molto normale, magari ci si appiattisce a livello della vita di tutti i giorni in cui magari alcune cose importanti e il centro della vita magari si perde un po', entra tutta una normalità e in qualche modo riesci a osservarmi, a capire di che cosa ho bisogno e probabilmente guidato dal Signore riesci a farmi capire che devo ritornare a qualcosa, a riguardare qualcosa, a fermarmi a riguardare qualcosa per ritornare al centro, ecco, è sempre un, mai un dover guardare a te per ricordarti ma un dover guardare a te perché tu mi indichi e mi dici devi guardare in alto, ricordati di guardare in alto e questo solo un amico può farlo e tu lo stai facendo.